Ciao a tutti ragazzi, sono TJason e qui oggi sono per sbustare le 10 bustine del tossico dipendente, che significa che praticamente va tre mesi che non sbusto una bustina per colpa dell'avventura, porca puttana, mortacci loro che mettono un'avventura a 700 oro ogni settimana, quindi mi ero anticipato loro per avere appunto i soldi per l'avventura e quindi va tre mesi che hanno sbusto. Iniziamo subito con la prima bustina perché sto veramente come il tossico che non aveva la sua dose da tempo, immemore. Ok, andiamo subito diretto. Oddio, la seconda carta che è data di più in tutto il gioco è il pacificatore Aldo, segui le regole di tua madre. Beh dai, una comune dorata è neanche figa, la metterò nel deck, non penso che la disincanto, però noi vogliamo epiche, vogliamo leggendarie, che so ste carte. Ok, dimmela mettiamo, no. Vai, cazzo, sto senza mouse, ok. Ok, ok, andiamo, 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 dai, dai, una leggendaria del cazzo. la bussina più pessima del momento praticamente è solo una rara che si trova per forza porca la miseria vogliamo una epica vogliamo una cazzo di legge no vabbè se non sbusto una legendaria ho due epiche almeno c'era veramente che cazzo oh cio raga sta andando male raga mi nervosisco così raga non va affatto bene tu tu sei la bussina tu senta me vai tu legendaria eh ma che so ste cacate ma che so ste cacate oh quattro bustine non ho trovato un cazzo quattro bustine madonna se era il mio amico ulengo aveva sbustato già tre leggendarie di cui una dura oh pirosfia ma vaffanculo che me ne faccio vabbè dai 100 polvere vabbè raccontentiamoci ne faccio un cazzo che scatta di merda ne ho già un dunque se giochi due spiriti pirosfera nel tec è un demente decelebrato vado niente ragazzi sta proprio andando di merda speriamo in questo quarto bustine c'è una epica di cui non mi ne faccio un cazzo e nemmeno dorate c'è lo schifo lo schifo più totale non chiedo tanto un leggenda anche anche se non è uno che mi serve dai ma che so ste cose madonna che cosa senti che tu qui dentro c'è il leggendario se no mi encanta che gioco c'è il ragazzi io sto sei pazze è come se stavo per avere la mia dose ma non ce l'ho più cioè dio blizzard che mi stai facendo ok adesso andiamo piano con caldo comune di merda comune di merda comune di merda comune di merda rara madonna di nuovo madonna comune di merda comune di merda c'è le ultime due bustine sono dieci bustine non ho trovato niente ma che gioco a fare a sto gioco che gioco a fare e poi la gente fa ma come giochi da cinque mesi anzi da sei mesi giochi da sei mesi non è un cazzo c'è solo c'è solo maligo sisera e e jarraxos grazie al cazzo li ho messi ho fatti tutti non sbusto mai un cazzo grazie cioè immagina io ogni bustina mi faccio 40 polvere praticamente cioè per farmi un leggendario fate il calcolo matema 1.6 diviso 40 quanto fa? cioè quante bustine devo comprare per farmi un leggendario di merda mentre c'è gente che lo vabbè c'è gente che li sbusta così uleng dove sta uleng aspetta aspetta c'è un pezzo di merda stronzo di merda che sbusta il leggendario è un idiocane appena dice diocane devi sbusta il leggendario ok è l'ultima raga niente lo schifo più totale cioè non pensavo non avrei mai pensato che sarebbe stata così male c'è solo una epica e una dorata comune o legg perchè coglione di merda vaffanculo vabbè raga io vi saluto cioè non penso caricherò nemmeno questo video di merda ma vaffanculo tua madre troia post recording alla fine ho deciso di caricarlo il video perchè penso faccia ridere iscrivetevi al canale o mettete mi piace se volete gasfiamare uleng insieme a me ciao a tutti